Che cosa c'è nel mio zaino fotografico? Che cosa ho scelto per portare avanti le mie produzioni, foto e video? E soprattutto come trasporto in giro tutta questa roba nel 2024? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e riprese video in particolare per le aziende. Ovviamente ogni volta che mi reco per realizzare un lavoro devo decidere come trasportare la mia strumentazione nel modo migliore possibile. E oggi andremo a parlare proprio di questo. Andremo innanzitutto a vedere che cosa utilizzo e poi vi farò anche vedere che cosa ho scelto per trasportare tutta la mia mercanzia. Prima di cominciare io vi ricordo che il danneggiamento della strumentazione fotografica durante il trasporto è una delle voci che incidono maggiormente sulla manutenzione obbligata che dobbiamo andare ad apportare alla nostra strumentazione. Motivo per cui io vi consiglio di iscrivervi subito in maniera tale da rimanere sempre aggiornati e non rischiare dei danni stupidi al vostro corredo fotografico. Colgo questa occasione per ringraziare subito lo sponsor del video di oggi che è KNF Concept che oggi ci dà la possibilità di vedere qualcosa di veramente particolare. Questo qui è il backpack fotografico che ho selezionato nell'ampio catalogo che mi è stato messo a disposizione dall'azienda. Ho selezionato questo tipo di prodotto per una serie di motivi. Non ultimi la scelta di colori che troverete sul sito che ho trovato veramente accattivante. Io personalmente ho preferito il nero perché siccome non sono bravo ad abbinare i colori ho preferito uno zaino che possa abbinarsi con qualsiasi cosa. Il nero secondo me non sbaglia mai ma devo dire che se avete dei gusti particolari se volete giocare ad abbinare i colori anche in accordo con l'armocromia vostra personale c'è una scelta di colori veramente molto accattivante. In secondo luogo quello che mi è piaciuto ovviamente sono le finiture. Dovete sapere che io quando accetto una collaborazione con un'azienda mi baso principalmente sul prodotto quindi è difficile poi che io faccia una cattiva recensione perché nel momento in cui mi propongono un prodotto che non mi piace di solito la rifiuto. Quindi se accetto una collaborazione vuol dire che il prodotto già mi piace e quindi poi difficilmente ne parlo male perché l'ho selezionato in base a caratteristiche che mi sono già note. In particolare secondo me le caratteristiche premianti di questo zaino sono il volume e le dimensioni. Perché vi dico questo? Perché avendo viaggiato di recente ho ben presente quanto possono essere rompiscatole le compagnie aeree soprattutto se viaggiamo low cost. Con uno zaino come questo io sono sicuro, numeri alla mano, che riesco a farlo passare come bagaglio a mano e quindi a tenerlo con me invece di doverlo relegare nella stiva. Quindi ovviamente devo stare attento al peso. Se lo carico troppo di peso magari mi possono rompere le scatole però per quanto riguarda le dimensioni questo zaino può tranquillamente venire in aeroplano con me. L'altra caratteristica che mi è piaciuta da subito sono ovviamente i materiali e le finiture. Ho trovato uno zaino fotografico decisamente solido dalla vestibilità veramente comoda con un materiale che è davvero piacevole al tocco e con degli scompartimenti interni che possono essere rimodulati per consentirmi di trasportare cose diverse a seconda di quello che devo fare. Molto bene ma comincio subito col dirvi che questa è la macchina che io utilizzo di più ancora oggi nel 2024. Questa è la Canon EOS 6D prima versione. Qui la vedete con il 16-35. Questo è in assoluto il corpo macchina che sto utilizzando di più. Lo uso di più perché è una combinazione che per me è perfetta. Mi dà il full frame, mi dà quel minimo di versatilità. Non è versatilissima però è quella con cui mi trovo meglio a fare la maggior parte dei lavori. Quindi questa nel mio zaino assolutamente non può mancare. In accoppiata spesso e volentieri ci troviamo Canon EOS R6 piuttosto che Canon EOS R a seconda di quello che devo fare. Questo per quanto riguarda la parte fotografica. La parte video è un pochettino più complessa. Infatti in questo caso se Canon EOS R6 la fa da padrone perché fondamentalmente è la mia prima macchina in questo momento per quanto riguarda le riprese video in esterna mentre in interna la mia prima macchina per le riprese video è R7 che sto usando in questo momento che però la uso quasi esclusivamente in studio. Lo so è un po' sprecata però a me piace tanto. Quindi diciamo che questa qui è la mia prima videocamera per riprese in esterna. Alla R6 posso affiancare la Canon EOS M50, la R7 se proprio servisse, oppure la 80D che comunque utilizzo ancora per fare un po' di video. Quando si fanno video ovviamente c'è tutta una serie di accessori che non può mancare come per esempio microfoni che ci dobbiamo sempre portare dietro e un po' di cavetteria. Questa roba qui di cui abbiamo già parlato sul canale è il caricabatterie per le fotocamere mirrorless di casa Canon con cui possiamo utilizzarle come videocamere attaccate alla corrente e questo è un vero e proprio salvavita secondo me soprattutto per le riprese corporate un po' lunghe perché ci consente di allungare il tempo di vita della nostra batteria e di estenderlo pressoché all'infinito. Andiamo a vedere qualche informazione su questo zaino fotografico. Stiamo parlando di una capacità di 20 litri, uno spazio per il computer da 15.6 pollici, quindi il mio portatile da 13 ci sta perfettamente, impermeabile, con copertura antipioggia. Stiamo parlando di un 30x20x45, qui vedo riportato un peso nominale di 1.7 kg, ovviamente pieno peserà molto di più. Come vi ho già detto parlando delle finiture ho trovato un lavoro molto ben fatto, lo zaino si presenta come assolutamente solido, il tessuto è gradevolissimo al tatto, è veramente un piacere aprire e chiudere tutte le varie cerniere e agganciare o sganciare tutte le varie cinghe che ho trovato molto intuitive e molto facili da utilizzare. Una cosa che mi ha sorpreso, che però non è assolutamente un male, anzi è la semplicità di configurazione dell'interno. Infatti come potete vedere dalle istruzioni, questo zaino sostanzialmente ha poche configurazioni, ci sono tanti pezzi, tanti slot possibili che possiamo configurare, però quelle consigliate sono veramente poche configurazioni che però dovrebbero andare bene in qualunque contesto. Infatti con questo zaino io personalmente riesco a farci stare in maniera comodissima due fotocamere che mi porto sempre dietro se sto facendo fotografia e ho anche lo spazio per tutti gli accessori, quindi filtri, un treppiede di quelli piccoli, di quelli da tavolo come quello che sto usando adesso, accessori vari quindi panni in microfibra, chi più ne ha più ne metta, comandi remoti, intervallometro, un secondo obiettivo, talvolta anche un terzo obiettivo a seconda di quello che ci devo mettere. Nel momento in cui invece utilizzo lo zaino per fare video la situazione è un po' diversa e qui è dove secondo me gioco veramente forte perché in questo caso io riesco a mettere in questo zaino il mio portatile, riesco a mettere uno stabilizzatore, un gimbal motorizzato a tre assi quindi smontato, riesco a riporlo comodamente nello zaino, riesco a mettere la mia Canon EOS R6 e riesco a mettere tutti gli accessori del caso, quindi i vari pezzi del gimbal che devono poi essere montati, le brugole, i filtri, i caricabatterie, i microfoni per la registrazione audio del mio filmato e mi avanza anche dello spazio per altro, quindi posso portarmi i miei color checker, posso portarmi i miei vetrini per fare i flare e i light leak, insomma c'è tanto spazio da utilizzare, c'è tanto spazio da riempire e quindi riesco sempre a trovare la configurazione migliore per portarmi dietro quello che mi serve per realizzare il mio lavoro. Una cosa che vi faccio vedere che secondo me è sempre una chicca, questo, adesso io lo apro parzialmente perché sennò non riusciamo a vederlo, questo come potete vedere è l'impermeabile, è letteralmente l'impermeabile per lo zaino, quindi lo zaino già si presenta secondo me con una buona impermeabilità perché è di un tessuto, non so come definirvelo, gommato, non so esattamente di cosa sia fatto però sono abbastanza sicuro che l'acqua faccia molta fatica a passare di lì, ma con questo messo sopra lo isoliamo completamente quindi siamo in grado di lasciare fuori soltanto le tracolle e tutta la nostra strumentazione è perfettamente al sicuro anche se camminiamo sotto la pioggia. Ovviamente io spero che non mi succeda, in questi giorni il tempo qui da me è un po' inclemente, piove di continuo e devo dire che questo zaino salva veramente la vita e soprattutto mi permette di andare in giro comodo con tutta la mia strumentazione dietro senza dovermi preoccupare eccessivamente di avere borse tracolle ai lati, anzi questo mi consente di avere altre borse e altre tracolle ai lati tenendo il grosso della mia strumentazione comodamente riposto sulla mia schiena. A questo punto amici io vi chiedo come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, che cosa utilizzate per fare foto e video quest'anno, avete una strumentazione che vi piace, che vi soddisfa oppure state pensando a fare degli upgrade e soprattutto con cosa trasportate in giro la vostra strumentazione? Fatemelo sapere qui sotto in un commento, vi ricordo come già detto che c'è un codice sconto per voi fornito da KNF Concept, quindi andate a recuperarlo in info box oppure nel primo commento, ve lo lascerò in evidenza, potete andare a usufruire del vostro codice sconto nel caso foste interessati ad acquistare il vostro primo zaino fotografico o nel caso voleste fare un upgrade dal vostro attuale zaino fotografico a quello visto nel contenuto di oggi. A questo punto io vi lascio con un altro video che comparirà in sovraimpressione non appena partirà la sigla, video nel quale andrò a mostrarvi che cosa c'era nel mio zaino fotografico l'anno scorso in maniera tale che possiate fare una bella comparativa. Questo video comparirà adesso qui da qualche parte non appena partirà la sigla ma io colgo l'occasione per ringraziarvi di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.